Se fossi un personaggio storico vorrei essere Rita Levi Montalcini, ma perché proprio lei? Perché comunque era una donna con tantissima forza di volontà. Nonostante fosse consapevole che alcune delle sue decisioni potessero portarla ad un percorso colmo di spine, quindi comunque pieno di ostacoli, lei non ne teneva conto, correva sempre dritta dritta per la sua strada affinché appunto realizzasse i suoi progetti. Infatti nonostante comunque il padre rimane fermo sempre sulla sua idea del ruolo ferminile, come moglie e come madre, lei quando morì la loro governante di tumore decise comunque di studiare medicina e quindi intraprendere questo percorso di studio formativo. Comunque lei ci insegna che bisogna sempre guardare la luce e l'ombra ci cadrà alle spalle.